La voce indiscreta è che è solo la seconda volta che si esibiscono da vivo, quindi è un doppio grado perché è stata una fatica. Un ulteriore motivo per fare i complimenti. Martino, tutto bene? Come stai? Come ti senti? Ormai ti coinvolgo, non ce l'aspettavo. Non ce l'aspettavo. Diciamo che Luca Maria è un po' a difficoltà, lo vedo che è un po'... Cosa c'è? Dimmi, non te l'aspettavi? Se l'aspettavo, dai, insomma, tutto sommato va bene, poi alla fine è un... come si dice? Tutto sommato è la musica che vince e quindi vi ritenete le condizioni, vi riparrete, avrete tempo per scalare le vetture. Buona premia a punto 7, questo è il risultato. Quarto premio per i non regressi, da quattro ore inizia la prova offerte da Udita. Diciamo che sono pronti per i quarti classificati al Regget Festival. Quarto, non qui sono qui inizia la procedura. Non è così. Non è così. No, non c'è, non è così. Ma c'è l'aspettavo, come un'altra? Non è così. non è sempre niente ma non è sempre niente non è sempre niente non è sempre niente Grazie per aver guardato, Sì, 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 sì. Buongiorno! Da Luca. Da Luca. Come on, man. Do you know what I think? I would be playing tennis. If we were playing tennis, we would play tennis, we would play football as well as the league. We would be playing tennis and tennis. Everybody was playing tennis. Grazie ragazzi